Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video tutorial che sarà nuovamente dedicato alla Fire TV Stick che proprio in questi giorni è stata proposta in promozione su Amazon con dei prezzi molto competitivi per cui mi aspetto che oggi a guardare il video ci siano anche molti nuovi utenti che stanno imparando a conoscerla proprio in questi giorni e quindi per forza di cose non ne conoscono ancora appieno le potenzialità. Così oggi vedremo insieme sette funzionalità molto utili che permettono di rendere molto più fluida e completa l'esperienza utente. Detto questo però prima di proseguire come sempre se volete vedere altri tutorial come questo potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e poi vi invito anche ad unirvi al gruppo Telegram che in questo periodo per qualche problema personale ho un pochino trascurato ma che da oggi ho intenzione di riprendere in modo molto più consistente e di questo naturalmente vi ringrazio di cuore in anticipo. Detto ciò iniziamo con la prima di queste funzionalità che permette di accedere ad uno strumento di diagnostica dove durante l'utilizzo è possibile leggere e analizzare alcuni dati importanti come il carico della CPU, l'utilizzo della memoria RAM, la risoluzione sia del display che dei contenuti e la velocità della connessione a internet. Fino a poco tempo fa per visualizzare questo pannello si poteva premere una combinazione di tasti del telecomando cosa che però da qualche tempo non riesco più a fare e quindi per raggiungere lo stesso risultato bisogna passare prima dallo store installando un'applicazione gratuita chiamata Developer Tools Menu e poi dopo averla avviata attivare le prime due voci X-Ray Sistema e opzioni avanzate che sono utili sia per risolvere alcuni problemi sia per verificare le prestazioni della Fire TV Stick controllando ad esempio durante l'utilizzo quali applicazioni sono più impegnative e quindi richiedono un maggior consumo di risorse di sistema e verificare in tempo reale la risoluzione durante lo streaming. Detto questo però prima di proseguire se volete vi invito anche a seguirmi su Instagram dove ho appena aperto un profilo nuovo di Zecca. La seconda funzionalità che vedremo oggi consente di personalizzare la schermata iniziale della Fire TV Stick riorganizzando nel modo che troviamo più comodo le applicazioni e i servizi che abbiamo installato. Per farlo dalla schermata principale dovremo raggiungere la penultima sezione dove sono racchiuse tutte le applicazioni installate e poi scegliendone una premere il tasto del menu sul telecomando. Cosicché in basso a destra comparirà questo menu a tendina con due o più opzioni che cambiano a seconda se l'applicazione si trova già in primo piano nella schermata principale oppure no che consentono tra le altre cose di modificare l'ordine con cui vengono mostrate le applicazioni e all'occorrenza di nasconderne qualcuna che poi rimarrà comunque accessibile dalla voce applicazioni presente nel menu impostazioni. menu impostazioni dove sempre per personalizzare la schermata principale è possibile scegliere la voce preferenze e poi l'opzione contenuti consigliati dove si può disabilitare la riproduzione automatica sia dei video che dell'audio per i contenuti in primo piano. E un'altra funzionalità molto importante che è bene conoscere riguarda la privacy perché come sappiamo bene tutte le entità che sono attive in questi settori e amazon da questo punto di vista ovviamente non fa eccezione tranne naturalmente quelle open source ma questo è un altro discorso sul quale magari tornerò in futuro con qualche video dedicato dicevo che queste aziende cercano di raccogliere il maggior numero di dati sul nostro comportamento che poi utilizzano con una doppia finalità la prima buona per migliorare il funzionamento dei dispositivi che stiamo utilizzando la seconda invece meno buona per scopi di profilazione e quindi per poi bombardarci al meglio con la pubblicità. E se questo è un tema al quale siamo particolarmente sensibili è bene minimizzare questa raccolta impostando al meglio fin da subito la Fire TV Stick cosa che si può fare ancora una volta dalla scheda preferenze del menu impostazioni disattivando come del resto vedete io ho già fatto queste tre opzioni che impediscono l'uso dei dati raccolti ai fini di marketing e per il miglioramento dei prodotti di raccogliere informazioni sulla frequenza e la durata di utilizzo delle applicazioni scaricate e di ricevere pubblicità mirate basate sui nostri interessi. Inoltre sempre a questo proposito vi ricordo anche che dal sito web di Amazon è sempre possibile eliminare tutte le registrazioni vocali registrate per l'appunto sulla Fire TV Stick il che però come riportato qui potrebbe compromettere la qualità delle funzioni vocali. La quarta funzionalità che vedremo oggi è quella che consente di interagire con Alexa usando un altoparlante eco al posto del telecomando e per farlo dovremo prima dall'app Alexa collegare l'altoparlante alla Fire TV Stick cosa che si può fare cliccando qui in basso a destra su altro e poi scegliendo la terz'ultima opzione impostazioni. Successivamente nella sezione preferenza Alexa dovremo scegliere la voce TV e video ed infine Fire TV poi dovremo scegliere dispositivi collegati o gestiti successivamente qui in basso collegare un altro dispositivo poi dovremo selezionare la Fire TV Stick che vogliamo controllare e quindi scegliere continua ed infine selezionare quale altoparlante eco usare per impartire i comandi vocali. Con la quinta funzionalità torniamo nuovamente a parlare di privacy perché dal menu impostazioni scegliendo la scheda preferenze è possibile attivare il parental control per limitare l'accesso ai video agli acquisti e ad alcuni tipi di contenuti per cui dopo aver impostato un pin si può subordinare all'inserimento della password, l'acquisto di video, applicazioni e giochi. Si possono applicare restrizioni alla visualizzazione di contenuti su Prime Video in base alla classificazione e si può anche impedire l'avvio di applicazioni e giochi. Naturalmente impostando il pin si impedisce completamente l'accesso all'applicazione mentre è possibile restringere la visione di determinati contenuti in base ad esempio all'età solamente su Prime Video che è gestita direttamente da Amazon mentre per altri servizi come ad esempio Netflix bisogna agire sulle opzioni disponibili all'interno dell'applicazione stessa. Oltre a poter guardare contenuti multimediali con la Fire TV Stick si può anche giocare e proprio a questo proposito un'altra possibilità molto comoda concessa dalla Fire TV Stick è quella di poter usare un controller di gioco al posto del telecomando. Io ad esempio uso ormai da qualche anno questo qui di GameSeer che funziona bene su tutti i dispositivi smartphone tv box android e per l'appunto la Fire TV Stick ma si possono tranquillamente abbinare anche quelli dell'Xbox e della PlayStation che si possono collegare tramite USB se abbiamo ad esempio collegato alla Fire TV Stick un adattatore oppure via Bluetooth il che si può fare sempre dalla scheda impostazioni scegliendo la voce controller e dispositivi Bluetooth e poi controller di gioco. Infine concludiamo questo tutorial con l'ultima funzionalità che permette scaricando l'applicazione dedicata a Fire TV disponibile sia per Android che per iOS di controllare la Fire TV Stick direttamente con lo smartphone. A patto naturalmente però che entrambi e quindi telefono e Fire TV Stick si trovino connessi alla stessa rete wifi per cui dopo aver stabilito il collegamento è possibile usare lo smartphone allo stesso modo del telecomando con in più la possibilità molto comoda di usare la tastiera per l'inserimento del testo. E quindi queste erano le sette funzionalità della Fire TV Stick che ho deciso di mostrarvi nel video di oggi che come sempre spero abbiate trovato utili e come al solito vi ricordo che per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.